Le nuove generazioni comunicheranno, apprenderanno e vivranno sempre più in 3D. Anche l'insegnamento subisce quindi il fascino delle nuove tecnologie, venendo incontro a quelle che sembrano essere le innate e naturali attitudini dei più giovani. In tal senso la Regione Lazio ha promosso il progetto Kit Scuola 3D, ovvero un processo di digitalizzazione della didattica che già nel 2015 aveva subito un'accelerazione. Il kit è stato consegnato anche all'Istituto Buonarroti di Fiugi. Oggi abbiamo ricevuto da parte della Regione Lazio per questo progetto, progetto molto importante, progetto Scuola 3D, la consegna di tablet, di scanner e di stampante 3D. È una innovazione estremamente importante per il nostro istituto. Questo è un progetto portato avanti dalla mia collega dirigente Patrizia Bottari che ha voluto questa innovazione insieme con la Regione Lazio e oggi siamo nella cerimonia di consegna. Questo darà grandi opportunità per il nostro alberghiero perché pensate che la stampante 3D può essere utilizzata anche con il cioccolato. Ecco, queste innovazioni, questa opportunità ci consente di avere una didattica più importante, più vicina al mondo dei ragazzi. Pensare che questa mattina in un istituto alberghiero, quindi in una scuola, in un centro di formazione possiamo dare ai nostri studenti uno strumento che andrà a costituire la loro cassetta degli attrezzi. Mi sembra anche, diciamo così, un pensiero verso tutti i nostri ragazzi, verso i ragazzi di questa nostra provincia. La scuola è un anello di congiunzione fondamentale, la formazione è un anello di congiunzione fondamentale tra il loro presente e il loro futuro. Noi come ufficio scolastico provinciale siamo molto orgogliosi e contenti di queste kit che la Regione Lazio offre alle scuole perché ormai la scuola italiana con il piano nazionale digitale ha un'evoluzione dal punto di vista digitale e della didattica digitale.